Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo vlog Che dire, intanto se sta avvicinando il Natale, oggi è 22 se non sbaglio devo ancora andare a fare caccia di regali ma il tempo non me lo permette veramente siamo innevati, proprio assidrati in casa perché queste sono foto dimostrative, non sono foto reali però siamo ai livelli se non peggio di queste perché le macchine sono ancora più ricoperte di neve non si sa come ma è veramente una cosa tragica diciamo che il panorama all'incirca è in questo momento così col cielo bianco insomma una merda no, devo dire la verità, la neve è bella perché dicembre ci deve stare la neve quando è che deve fare neve se non è Natale e quindi a Natale si è sempre tutti più buoni quindi si cerca di stare in compagnia, nelle feste, così poi a capodanno fa quel cazzo che vuole però vabbè, visto che sono a Natale, volevo farvi un bel regalo sia per gli utenti Windows che gli utenti Mac allora, installatevi questo programma Toble, scritto Toble che è un bel bellissimo programma quando lo installate vi chiederà di installare Perian che è questo semplicissimo programma che ancora non ho capito il suo funzionamento ma non dovrò andare a vedere perché tipo, la prima cosa che mi è stupito è l'audio di uscita che è un Dolby Pro Logic 2, almeno puoi decidere e boh, è una figata a dire la verità però non ho notato nessuna differenza nell'audio di uscita vabbè, questo programma che cosa fa? abbiamo, ovviamente, quello gratuito entra all'interno di YouTube e permette di scaricare attraverso se avete un indirizzo internet per scaricare oppure volete cercare semplicemente oppure vi interessa qui a lato andare a cazzeggiare e scaricare qualcosa tra l'altro è proprio uno download, diciamo, nell'applicazione permette di estrapolare i video da YouTube e... che dire? io l'ho provato, è semplicissimo ci sono anche i miei Apple Blog per farvi un esempio sono tutti in genere poi ci vanno le pagine in avanti, indietro bellissimo io ho cliccato il News è semplicissimo schiacciate qui poi schiacciate sotto dove c'è scritto Download e vi si apriamo una finestra del genere finché qui ci sarà un download adesso c'è Done vuol dire che è done vuol dire che è finito e cliccando due volte vi si aprirà la finestra di Two Bell Movies dove c'è la cartellata che contiene i filmati che ho scaricato Super Massimo e Black Corp vabbè, possiamo anche eliminarlo qui eliminiamo tutti e due e questo lo spostiamo qui io ad esempio ho scaricato Uprising dei Muse la qualità non è male vabbè, dopo niente è una figata, devo dire la verità è un bel programma che tra l'altro sicuramente lo fanno regalo a tutti lo potete scaricare scaricare sul sito tuble non so come cazzo si chiama non so come si interpreta tuble tuble boh punto tv e c'è sia la versione per Windows sia la versione per Mac questo perché sia Natale è tutti più buoni quindi sia il chiavista che i Spiki 7 Windows 7 lì una merda vabbè no, vabbè non so com'è la Windows 7 ma non ho ancora inizio di verità boh chi ha Tiger Leoperson Leoperson lo può bellamente scaricare è un programma gratuito ed è semplice da utilizzare ed è anche comodo diciamo che è molto più semplice di altri meccanismi per prendervi i video ovviamente io non sono responsabile dell'utilizzo di questo software ma è tutta la vostra responsabilità io faccio solo come si dice informazione e quindi boh vedete voi sta a vostra scelta utilizzare un programma del genere o meno niente saluto tutti perché non so se ci sentiamo prima di Natale perché sono abbastanza impegnato perché voi siete a casa dalle vacanze di Natale io invece lavoro e così però intanto a me pagano a voi no questa è una cosa abbastanza bella quindi ci dai ci sentiamo auguri di buon Natale di buone feste a tutti quanti e un felice vabbè ci sentiamo prima di Natale va bene ciao ragazzi assistatemi bene ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti